La difesa è colpevole soprattutto al di là di questa ingenuità da cui nasce tutto, sulla posizione del primo uomo che non deve far passare quella palla, guarda, in quella zona lì ci sono due giocatori che vanno a colpire, Zapata e prima ancora Borini, nessuno tocco, la palla è dentro, quindi il gol è di Riccardo Rodríguez, però ci...